Siamo in compagnia di Stefano Crisci, avvocato per parlare di Key Legal. Naturalmente il contesto è quello della serata, giornata dedicata alla New East Foundation e ne parliamo dettagliatamente perché quando si parla di dialogo aperto si parla anche di rapporti sempre interessati e legati dal diritto. Grazie, è un piacere essere qui stasera. Volevo parlare di questo Key Legal, specialmente in questa serata nella quale si è parlato di Turchia, di unione di paesi Est e Ovest, il Bosforo, questo brulicare di culture, di contaminazioni culturali. Purtroppo in questi giorni abbiamo cattive notizie ma comunque c'è un gran da fare a livello internazionale, a livello legale, grandi gruppi che si muovono nel mondo, grandi flussi di danaro che si muovono nel mondo e che costruiscono cose, il terzo ponte sul Bosforo e quant'altro anche da parte dell'Italia. Key Legal è un'organizzazione, un network che con la mia esperienza ventennale in uno studio internazionale, studio Carnelutti, ho avuto modo di frequentare dei network internazionali. Quindi l'idea in questo periodo è quella di fare degli studi, di fare una sorta di associazione temporanea permanente, non temporanea per l'appunto, di studi che si scelgono, che sono indipendenti, che scegliono di scegliersi ogni giorno, che si frequentano, che si conoscono, si stimano, sono indipendenti, ognuno può fare la sua vita, organizzare il suo studio a modo suo, ma si ritrovano su una sorta di piattaforma permanente un po' in tutto il mondo. Quindi collegarsi fra studi nazionali a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, anzi e soprattutto a livello internazionale. Quindi potendo contare sulla stessa professionalità, sullo stesso standing del professionista senza dover necessariamente fare uno studio legale enorme. Questo consente in alcuni casi di partecipare a delle gare e quindi poter dare dei servizi come una massa solida, compatta, di avvocati professionisti che tutti dello stesso standing, dall'altra di avere nel paese di riferimento la persona giusta che sa esattamente che fa le cose come ne faresti tu. Ecco, questa è un po' l'idea. L'idea del network, tra l'altro, è un'idea moderna che va incontro al mondo sempre più globale. Mi viene da chiederle come vengono proprio scelte le risorse umane all'interno degli studi legali. Qualcosa già mi ha detto? Quali devono essere i requisiti fondamentali che non possono mancare? Beh, sicuramente una ottima preparazione di base, uno studio che abbia persone multilingue, che possano parlare più di almeno due lingue, ovviamente l'inglese sempre e comunque, che abbiano fatto operazioni dello stesso tipo, dello stesso target che noi riteniamo di fare. E per questo insieme anche ad Alessia Montani stiamo cercando di scegliere, fare un cherry picking tra gli studi migliori, tra gli studi di quel livello, ma anche indipendenti, anche piccoli. Questo è un po' il segreto, perché gli studi internazionali grossi hanno sempre un po' tutte le discipline, tutte le materie. Noi prendiamo quelli che da questi studi sono usciti, hanno più o meno la nostra stessa età, sanno come si fanno le cose grandi e le vogliamo fare insieme, scegliendo appunto questo tipo di professionalità e vedendoci una volta a ogni mese almeno, o almeno ogni tre mesi, facendo degli annual general meeting o dei meeting comunque, per parlare di diritto, ognuno nella propria competenza, per competenza per materia e poi anche per territorio, non più di tanti avvocati nello stesso territorio, perché altrimenti ci sono poi le gelosie tipiche degli avvocati. In tutte le professioni, davvero. Chiudiamo dicendo questo, lei sicuramente dall'alto della sua esperienza avrà un'idea, avrà individuato le aree a livello mondiale dove maggiormente c'è bisogno di un'assistenza legale, tipo quella che voi siete in grado di garantire. Quali potrebbero essere queste aree? Dov'è che manca qualcosa e dov'è che andrete ad inserirvi, almeno questo ne hai desiderata? Ma questo, Giovanni, di solito non manca mai nulla, nel senso che ci sono da nessuna parte, con gli avvocati specialmente, si pensa che soltanto a Roma siamo 25.000, sono 25.000 avvocati a Roma, quindi gli avvocati non mancano mai. Quello che manca è un'idea condivisa. Diciamo che quello che mi ispira è più fare le cose al minor prezzo possibile, nel più breve tempo possibile e nella maniera migliore. E questo si può raggiungere proprio forse essendo indipendenti, potendo fare delle economie di base che sono quelle derivanti dagli studi indipendenti legati alla persona che poi si uniscono su questa piattaforma. Questo consentirebbe di avere un servizio più immediato, a minor costo, rispetto alla concorrenza. Quindi questo è questo forse che manca, una concorrenza intelligente. E' per questo che pensiamo che questa sia una formula vincente in questo momento, dove tutto è tecnologico, veloce e immediato. Molto bene, grazie all'avvocato Stefano.